Oggi come oggi, lavorando a questo progetto del mare, costruendo i violini, mi sento un altro nico di quello che ero ieri, mi sento rinato, mi sento ritrovato. Ecco qui l'idea di dare voce a tutto ciò che viene comunemente scartato. Il legno delle barche che viene preso è smaltito come rifiuto speciale, buttato via. Le persone migranti che in ogni attimo, adesso mentre parliamo, stanno fuggendo da ogni paese dalla guerra e dalla miseria e sono trattati come scarti. E le persone detenute che poi lavorano qui, trasformano questo legno in strumenti musicali, ma che sono spesso trattati come persone che non possono avere una seconda possibilità. Grazie.